Figura di spicco della famiglia mafiosa di Canicattì, dopo la morte del cugino Diego freddato da un commanto il 14 ottobre 2000, Calogero Guarneri sarebbe diventato il capo della cosca locale. Ma è stato nell'ambito dell'operazione Alta Mafia che i giudici della direzione distretto all'antimafia accertarono un suo coinvolgimento in un intreccio tra la criminalità mafiosa e il contesto politico-economico dell'agrigentino. A conferme della sua appartenenza a Cosa Nostra, Guarneri è stato contannato dal Tribunale di Palermo 8 anni di reclusione, sentenza poi ridotta a sei anni dalla Corte d'Appello di Palermo nel 2007. Anno dopo anno il suo patrimonio personale, grazie anche al ricorso alle intimidazioni, sarebbe cresciuto in maniera vertiginosa. Ci sono voluti diversi mesi d'intagini agli uomini dalla Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento per accertare la ricchezza accumulata nel tempo dal boss canicattinese. Si arriva così al blizzi al sequestro di beni per oltre 5 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Agrigento su proposta avanzata dal sostituto procuratore Salvatore Leopardi con il coordinamento del procuratore aggiunto Vittorio Teresi. Il sequestro è riguardato beni sparsi nelle province di Caltanissette e Agrigento. In particolare 24 terreni, una fattoria con tanto di cavalli, mucche e pecore, estese di fruttete e vigneti e poi ancora fabbricati nel centro di Canicattì e quattro imprese impegnate nel settore delle costruzioni, del movimento terra e nel confezionamento di conglomerati cementizi.